Ciao, sono Lucrezia Ruggero. E io, Giorgio Minisini. Quando non siamo in giro per gare, ci piace girare per il Lazio. Io non resisto al fascino di Roma. E io a una partita a golf in uno dei tanti campi del Lazio. Quest'estate mi sono tuffata la nannatura e ho visitato le grotte di Pastena e Collepardo. Che spettacolo! Io mi sono buttato in un'escursione lungo il cammino di San Benedetto, pieno di storie e leggende. E poi una gira a Castelli Romani dove ho bevuto un bianco. Fantastico! Ti credo, con tutta l'acqua che bevi in piscina.